Era il venerdì santo di quest'anno, quando durante la processione religiosa per le vie di San Michele e di Gansaria venne reso omaggio al boss Francesco Larrocca. Il corteo deve il percorso stabilito, passando davanti all'abitazione del capo mafia. Il tutto venne ripreso dai carabinieri e denunciato dalla procura di Caltagirone. Un gesto non isolato e sintomo di un asservimento che nel tempo ha contribuito a arricchire il quadro investigativo che ha portato al provvedimento di fermo per 28 persone, fra Catania, Siracusa, Ragusa ed Enna. Un duro colpo è stato inferto al clan di Caltagirone, legato al bosser Gastolano e detenuto Larrocca e che nel corso dei mesi aveva allacciato stretti rapporti con la famiglia Nardo di Lentini, in provincia di Siracusa. Un legame che avrebbe dovuto portare in tempi brevi alla nomina del rappresentante provinciale di Catania e alla gestione condivisa dei soldi e le estorsioni su appalti pubblici e privati. Inoltre le indagini carabinieri rossa hanno consentito di accertare le responsabilità del sodalizio in un duplice omicidio commessa a Radusa, in provincia di Catania. E proprio per scongiurare una possibile guerra di mafia, in un momento hanno sottolineato gli inquirenti di riassetto degli equilibri interni alle famiglie di Caltagirone, del comprensorio e del catanese, la procura di struttura l'antimafia di Catania ha emesso i fermi. Le accuse sono di associazione mafiosa, omicidio, estorsione e reati in materia di armi. Grazie! Grazie! Grazie!